Radio Bellagio Nella sezione dedicata al collocamento Pizzaiolo con decennale esperienza cerca lavoro al 380 43 94 022 Signora con esperienza cerca lavoro come assistente anziani negli ospedali di Gravedona Chiavenna Morbenio oppure anche a domicilio nelle zone di Colico Chiavenna ed intorni Bassavaltellina Info al 340 33 00 950 Bar in Bassavaltellina vende una carambola da bar, una macchina del caffè più macina caffè separato e lavastoviglie in buone condizioni 339 86 90 749 Vende una caldaia legna con dichiarazione di conformità e una vogliera per uccelli Visionabili a benelario chiamando il 333 38 49 24 9 Cercasi un barman con esperienza e due bariste per nuovo locale in San Siro 34 77 39 79 31 Cerco in affitto una casa in zona porlezza per due persone 33 19 26 09 40 Vende una motosega Steel 260 MS semi nuova visionabile a Morbenio chiamando il 347 97 92 370 Vende una balestra Barnet professionale con ottica e porta frecce Tiro effettivo 100 metri visionabile a Morbenio chiamando il 347 97 92 37 0 Vende un motoscooter elettrico orto car da 4x4 classic con poltrona ideale per anziani e disabili percorre 50 km al costo di 1 euro Visionabile a Sondro chiamando il 339 78 43 45 5 A Dervio vende un bellissimo appartamento 500 metri dal lago 110 metri quadrati al quarto piano con vista lago due camere sala con terrazzo e finestre bagno cucina anticamera solaio 339 17 76 67 6 Regalo ad amanti animali un gattino di circa due mesi visibile ad ongo 339 34 05 54 5 Ristorante e pizzeria in Porlezza cerca un cuoco 0344 61 78 1 Si cercano cuochi e camerieri e baristi per bar in Bellagio 34 75 47 08 54 Vende un'elittica da palestra 34 79 79 23 70 Vende una lancia Libra Station Wagon 5 porta revisionata chilometri percorsi 110.000 del 2001 con aria condizionata lettore cd radio richiesti 3500 euro chiamate il 33 92 95 14 21 oppure lo 0342 56 60 49 Termina qui la rubrica del collocamento dei piccoli annunci di Radio Bellagio Vi ricordo che le vostre inserzioni potete farcela avere via mail all'indirizzo radiobellagio at otomail.it oppure chiamando redazione allo 031 950 477 E se poi non avete fatto in tempo a segnare i numeri di telefono che vi interessano potete riascoltarla sul web sul sito www.cosmobellagio.com Ciao Da Narita 103 buon proseguimento sulle frequenze di Radio Bellagio Ciao